Bene, io mi rivolgo ai miei concittadini per dire che ho fatto una scelta sicuramente molto forte per quello che è il mio passato politico, ma una scelta convinta e se vogliamo anche di coraggio. Io ho deciso di sostenere l'Avvocato Vito Miccolis a sindaco della nostra città da quando ho visto un suo posto con il quale dichiarava la sua disponibilità a candidarsi per questo importante ruolo. Ho scelto l'Avvocato Miccolis perché lo ritengo un professionista serio, lo ritengo un conoscitore delle problematiche della nostra comunità, lo ritengo molto vicino ad alcuni settori sofferenti della nostra comunità, ma lo ritengo in una parola sola la persona giusta e più indicata per poter affrontare questo compito molto difficile perché amministrare una città come Massafra di 33.000 abitanti vuol dire andare a ricercare una persona che abbia questi requisiti. Io ho fatto questa scelta anche perché ritengo che la politica vada governata da chi questo lavoro lo fa con passione, da chi è un conoscitore delle regole, ma da chi soprattutto rispetta anche le regole della politica per evitare che poi attraverso tante iniziative che non servono alla comunità in genere si vada sempre di più verso l'antipolitica o addirittura verso quei furbetti che dicono di essere al di fuori della politica ma che poi un minuto dopo, state tranquilli, entreranno con tutto il proprio carico nei partiti politici. Allora non è possibile che la politica sia governata da chi si dichiara di essere fuori dalla politica e quindi un po' di coraggio e un po' di onestà intellettuale non guasta. Quindi ho scelto di sostenere l'Avvocato Miccolis e ho rotto gli indugi con un po' di anticipo perché questa è un po' una fase di attesa per molti anche consiglieri comunali ed ex consiglieri comunali e per molti i cittadini che vorrebbero entrare in questo agone. Allora io dico coraggio, creiamo noi questo nuovo ponte, creiamo noi questa inversione di tendenza e vediamo un po' se è possibile fare qualche cosa di diverso o di più di quando non sia stato fatto con tutto il rispetto di quello che fino ad oggi è stato fatto in certi settori. Però io mi batterò per una cosa molto semplice. Al di là delle grandi infrastrutture, al di là delle opere pubbliche, io mi batterò per una cosa che ho sostenuto in questi anni. La quotidianità. La gente ha bisogno di sentirsi vicino alla politica, la gente ha bisogno di vedere e risolvere i problemi quotidiani con l'impegno quotidiano e quindi questo è molto importante. È per questa ragione che io sostengo la candidatura a sindaco dell'Avvocato Miccolis perché sono sicuro che oltretutto per poter proiettare la nostra città in un circuito più grande non si può usare l'antipolitica o il nascondersi dietro la non politica perché altrimenti rimaniamo gli ortolani del proprio orticello e quindi abbiamo bisogno di questo ponte con la Regione e col Governo nazionale che in questo momento ammassà fra solo l'Avvocato Miccolis e in condizioni di poter assicurare e rappresentare. Grazie. Grazie.